Al via le domande per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Con un avviso pubblico il sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell'albo a presentare apposita domanda entro il 31 ottobre prossimo. I requisiti richiesti non aver superato il settantesimo anno di età, possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, iscrizione nelle liste elettorali del comune di Agropoli. Sono esclusi invece dalla funzione in oggetto i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti alle forze armate in servizio, i sanitari dell'ASL designati al rilascio delle certificazioni in favore degli elettori fisicamente impediti, i medici provinciali, gli uffici sanitari e medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione. Il modello della domanda può essere ritirato presso l'ufficio elettorale in piazza della Repubblica 3 ad Agropoli o scaricato dal sito internet del comune. Nella domanda in carta libera redatta sull'apposito modulo dovranno essere dichiarati oltre alle complete generalità la residenza e il titolo di studio posseduto, la professione, l'arte o mestiere esercitato.